segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te prego farinetti eh sì ha ragione in questo momento io sono molto d'accordo con l'analisi che ha fatto il giornalista prima e la nostra signora con i capelli bianchi perché anch'io faccio fatica a ricordare questo nome no no io so come si chiama diceva con una punta di cattiveria ebbene ha fatto una reazione che ha ragione lui andava bene per gli stati uniti d'america non per l'europa sostanzialmente nel discorso che ha fatto ieri a me sembra di aver capito che non sa a che punto siamo e non sa dove vogliamo andare noi eravamo abituati a draghi in europa che aveva secondo me la visione molto chiara la decisione molto rapida questo momento abbiamo un attimo così poi siamo stati anche molto bene in italia con draghi a me è piaciuto da matti a me è piaciuto da matti vedo Massimo De Manzoni che scuote il capo senta però la porto sulle parole nuove non vattene approfittare che non ho farinetti tutti i giorni e ne voglio approfittare la porto sulle parole nuove farinetti allora ministero del made in italy lei la rappresenta l'italia nel mondo le piace o non le piace molto mi piace molto come titolo secondo me è zeccato bisogna proprio occuparsi del made in italy bene sovranità alimentare le piace o non le piace no non mi piace affatto ma sai io tutte le volte che sento la parola so già sovro mi viene l'ortitaria secondo me sovranismo e sovranità è una parola che non sappiamo bene cosa voglio dire è un po' come come metaverso capito cioè adesso ci sono delle parole che sono molto fighe le diciamo secondo me metaverso non sa neanche giù capire bene cosa vuol dire capisco il ragionamento però vede l'uso del termine sovranità alimentare nasce dal mondo slow food una decina quindicina di anni fa per difendere le nazioni africane che non hanno cibo sufficienza e cioè la speranza di arrivare ad un minimo di sovranità alimentare si era una roba di sinistra per dirla con parole vecchie no di sinistra insomma del mondo slow food infatti facciamo noi come italy abbiamo fatto mille orti in africa noi abbiamo creato e donato e gestiamo mille orti in africa e l'obiettivo qual è quello di cercare di aiutare quelle popolazioni lì a prodursi a prodursi cibo se per sovranità alimentare si intende sostanzialmente autarchia cioè ci dobbiamo produrre tutto noi noi siamo già in un regime di sovranità alimentare nel senso che produciamo molto più cibo di quello che servirebbe da noi infatti le nostre esportazioni di cibo sono superiori alle importazioni ormai siamo arrivati oltre 52 miliardi ne importiamo quindi saremo in grado con le cose che produciamo noi di risolvere il nostro bisogno alimentare ma noi il nostro bisogno alimentare insomma come si fa a parlare di bisogno alimentare in italia abbiamo più cibo di quello che mangiamo purtroppo c'è qualche milionata di famiglia come lei sa bene che non riesce ad arrivare al cibo come nel mondo incredibile siamo 8 miliardi produciamo cibo per 12 miliardi di persone e 826 milioni di persone nel mondo il 10 per cento della popolazione non ha cibo sufficienza per vivere ogni giorno 25 mila bambini muoiono di fame no però allora chiedo no lei dice ovviamente c'è questa assurdità produciamo decisamente di più di quello che ci serve e poi c'è una fetta della popolazione che non ha l'accesso al cibo questo mi è chiaro ma mi domando se se noi dovessimo entrare in un regime autarchico autarchico vero nel senso che consumiamo solo ciò che produciamo noi cosa succederebbe che le cose che produciamo noi costerebbero di più o di meno perché ho come la sensazione che alcune cose che compriamo le compriamo ad una cifra diversa da quella che costerebbe il nostro cibo le chiedo è e quindi i poveri avrebbero un problema in più no bisogna avere una visione mondiale io ricordo sempre a tutti che noi siamo lo 0 83 per cento dei cittadini del mondo fuori c'è il 99.17 siamo condannati a vendere bellezza e bontà al mondo perché produciamo le cose più buone del mondo ciò che esportiamo noi è meraviglia cioè noi esportiamo parmigiano reggiano barolo barbaresco grana padano quello che importiamo noi è caffè perché abbiamo bisogno di fare il caffè italiano l'espresso che è made in italy ma non possiamo coltivare il caffè cacao perché non possiamo coltivare il cacao e siamo ottimi produttori cioccolata importiamo grano tenero perché non abbiamo non abbiamo le superfici sufficienti per produrre grano tenero importiamo un po di grano duro negli anni in cui non riusciamo a produrlo noi perché negli anni buoni ce la facciamo arrivare siamo tra i più grandi produttori mondiali di grano duro noi cosa importiamo soprattutto è materia prima base quello che esportiamo è prodotti trasformati dei 52 miliardi di esportazioni di cibo 48 miliardi sono prodotti industriali trasformati 42 miliardi 44 8 miliardi è di materia prima noi non siamo grandi produttori di materia prima perché abbiamo una superficie piccola siamo 0,06 del mondo quindi va bene così significa renderci antipatici al mondo adesso glielo dico chiaro se lei mi permette allora noi dobbiamo andare a dire al mondo allora sentite mondo voi dovete comprare da noi barolo barbaresco parmigiano invece noi mangiamo solo la nostra roba perché la vostra ci fa cagare o perché dobbiamo essere autarchici questi ci mandano a stendere noi dobbiamo essere simpatici al mondo stiamo andando da dio no no diciamo che l'ha detto con una metafora massimo sì chiedo scusa però mi sembrava abbastanza chiaro no che dici massimo de manzoni